Nel mio sogno correvo per un lungo corridoio e delle facce mi osservavano nell'ombra. Ho cercato di chiedere aiuto, ma non ricevetti nessuna risposta. Entrai poi in una cella di isolamento e... lo vidi. Mio caro paziente numero 12, quante volte ti abbiamo detto che non devi uscire dalla cella di notte? Sai le cose strane che accadono qua dentro? E non entrare mai più nella stanza del soggetto numero 15. È il più pericoloso. Grazie per la visione!